Brescia, l'orgogliosa leonessa d'Italia, presenta un percorso per immagini di rara bellezza e poesia. Brescia, famosa nel mondo per la sua leggendaria corsa alla Mille Miglia, è da sempre una città accogliente e ospitale. Ha un antico cuore romano. Per andare indietro nel tempo basta percorrere la via del Decumano Massimo. Grazie a tutti.